ragazzi oggi un piatto che ricorda la mia infanzia le polpette tritiamo del prezzemolo e uno spicchio di aglio io utilizzo 300 grammi di carne macinata di maiale 200 di manzo aggiungiamo poi la nostra mollica di pane imbevuta nel latte una piccola patata lessa aglio prezzemolo e parmigiano una bella grattata di pepe una manciata di sale un po di succo di limone e un cucchiaio di noce moscata e impastiamo per bene formiamo le nostre polpette poi le infariniamo una ad una in una padella aggiungiamo dell'olio ad olio caldo cuciniamo le nostre polpette le andiamo a sfumare con un bel bicchiere di vino bianco nella stessa padella aggiungiamo uno spicchio di aglio e la passata di pomodoro immergiamo le polpette e a fiamma bassa per 15 minuti impiattiamo e godiamo attenti che una dire l'altra dire l'altra